Cosa è la narrazione? Un linguaggio di tipo descrittivo e argomentativo, non narrativo. Era la sfida che ci siamo posti noi, raccontare il linguaggio narrativo con un linguaggio di tipo narrativo. Così sono nate diverse storie, si chiama storie di scuola. Un tempo nella scuola dell'infanzia si parlava più di educatrice. Oramai sono 20-30 anni che si acquisita il termine insegnante anche nella scuola dell'infanzia. Perché? Perché è il mediatore culturale. La scuola dell'infanzia non è un luogo educativo generico, è un luogo specifico dove la cultura incontra il bambino, dove il bambino impara a riconoscersi come soggetto culturale. Chi opera quest'azione? L'insegnante. Qual è la sua competenza? Quella di possedere dei contenuti che il bambino non ha? Certamente, ma oggi, fra televisione, computer, eccetera, ci sono mezzi molto più suggestivi ed efficaci per raccontare delle storie. Ma l'insegnante è colui che è capace, è colei che è capace di filtrare le informazioni, di educare fin dai primi anni il bambino a quello che potremmo chiamare, se la parola non è troppo grande per la situazione, alla critica. Tendendo per critica non la polemica, ma lo sforzo di interpretare, di mettersi in gioco. I nostri bambini oggi non sono proprio illetterati. Il mondo che circondano è pieno di parole, anche scritte, e già cominciano a comprendere qualche cosa. Allora, la lettura fatta con l'insegnante aiuta a imparare le modalità in concreto della decodificazione. Così altrettanto, e questo è ancora più importante, è l'educazione all'ascolto. Il libro è mediato da una voce, la voce di adulto, che trasmette, ma il tesoro del racconto viene dal libro. Il libro è uno scrigno di avventure, di avventure, di storie che vengono passate. Il bambino impara che esiste anche il libro, che il libro può insegnare, può raccontare, ed è portato evidentemente a diventarne protagonista. Senza contare, per ultimo, che questo instaura una relazionalità calda, una familiarità forte, e un livello culturale di interazione tra adulto e bambino, che è quello forse di cui abbiamo tanto bisogno.